Roin Bach è un ricercatore dell'Università di St. Andrew in Scosia e ha visitato l'Arberia, l'isola linguistica dei discendenti del popolo albanese in Calabria per studiare il ruolo dei social media nella salvaguardia dell'Arbresh, lingua a rischio di estinzione. Sostenuto dall'Associazione Fili Mediterranei di Pallagorio, Bach ha intervistato i componenti della comunità Arbresh di diverse fasce d'età insieme a studiosi locali per comprendere come le piattaforme digitali possano essere utilizzate efficacemente per promuovere e diffondere la cultura e la lingua albresh. Il ricercatore ha incrociato il lavoro svolto da Fili medridiani, team impegnato da anni nella salvaguardia del patrimonio culturale e linguistico degli albanesi in Calabria, osservandone da vicino le attività tra cui la creazione di video in lingua albresh distribuiti attraverso i social media. Bach ha evidenziato il potenziale delle piattaforme digitali per la condivisione di contenuti culturali, lezioni linguistiche e per facilitare connessioni tra le diverse comunità Arbresh sparse nel mondo. Ed è venuta fuori una panoramica di come le nuove tecnologie possano essere sfruttate per preservare e diffondere le lingue e le culture minoritarie, come appunto quella a Bresh, evidenziando la necessità di un impegno continuo e collaborativo. La visita di Bach in Arberia non solo ha fornito preziosi spunti per futuri studi e iniziative nel campo della salvaguardia linguistica e culturale, ma ha dimostrato come i social media possano rappresentare un alleato nella missione di mantenere viva la lingua albresh e la sua cultura millenaria. Dai risultati della ricerca è emersa l'importanza di un approccio integrato che coinvolga gli aspetti tecnologici e umani, offrendo nuove prospettive per la conservazione di patrimoni linguistici e culturali preziosi e a rischio di progressiva scomparsa.